Anche le macchine elettriche sono silenziosissime e sono rischiosissime. Su questo abbiamo intenzione, attraverso i visi del fuoco che hanno fatto un encomio a loro, un manuale sul fatto di cosa accade in caso di incidente ad un veicolo elettrico che non è uguale al veicolo termico. Dobbiamo stare molto attenti. Poi c'è l'accelerazione. La cosa che mi dispiace è che a livello commerciale queste auto siano vendute come sono vendute le altre. Invece l'accelerazione sia dell'auto che della moto, perché ricordiamoci che a 16 anni potranno andare in autostrada dei ragazzi con una moto elettrica, questo per il vecchio governo che se non viene tolto possono andare, ma l'accelerazione, la spinta dell'accelerazione termica, scusate elettrica, è molto superiore. Quindi i tamponamenti, gli incidenti avvengono. Basterebbe fare un piccolo corso prima della vendita di questa macchina, perché ricordiamoci che le macchine elettriche hanno un avvio e ricordiamoci che per esempio anche molte persone anziane, ricordiamoci che per esempio in Emilia-Romagna abbiamo 386.000 persone dai 70 anni in su con la patente B. Quindi, diciamo, queste persone, ma non solo le persone anziane, a tutti, perché casomai i riflessi sono migliori nelle persone per carità, però un piccolo corso di come si guida un'auto elettrica non sarebbe male.